Qualcuno se la senti vieni a fare un esperimento di ipnosi, abbiamo un, beh, la signora con quella meravigliosa cornice di riccioli e capelli corvini, penso sia la candidata ideale, un applauso, possiamo darci del tu per forza perché facendo ipnosi bisogna aprire un canale molto diretto, allora Rosanna, vieni qua vicino, ti devi mettere qua in piena luce, guardate che meraviglia abbiamo trovato, guarda, è già l'istinto della mamma, pulirsi voi, gli diamo una scopa, gli diamo, adesso però ti dovresti rilassare e fidarti di me, allora, quello solo, è una parola grossa, anche mia moglie dice, ma chi vuoi che si figli di te per carità, allora, vi chiedo qualche minuto di silenzio e chiedo a Rosanna di rilassarsi, chiedo a tutti voi di fare esattamente quello che farò fare a lei e per prima cosa, cominciare a respirare lentamente e poi fare esattamente quello che lei farà, ovvero, sollevare le mani in avanti, unire i due palmi, come se ci fosse una calamita, che le appiccica una all'altra, puoi incrociare tutte le dita, 3 minuti di silenzio, poi andiamo verso il viso, a questo punto, al 3, aprite le dita, gli indici e li distanziate il più possibile, li distanziate il più possibile, così, perfetto, ora, vi dovete concentrare su questo punto focale, in mezzo alle due dita e immaginare che sia una calamita e più questa calamita, voi la immaginate, più le dita vorranno avvicinarsi, sempre di più, non fate resistenza, lasciatele avvicinare, lentamente il vostro respiro deve rallentare, ok, pian pianino le dita si avvicinano, perché vogliono toccare lentamente, è una sensazione molto piacere, qualcuno è già riuscito a farle toccare, adesso prendiamo le mani e le apriamo, li stendiamo davanti a noi e apriamo così le mani, stessa elettrica cosa, immaginiamo di vedere una grande calamita con il centro, e lentamente permettiamo che questa calamita faccia il suo lavoro, cioè quello di far avvicinare le mani, lasciate che succeda, lasciate che succeda, il respiro diventa sempre più lento, qualcuno già ha fatto toccare le mani, bravissime, a questo punto, bravissima Rossana, ora continuo con lei, Rossana dalle mani, rilassati, 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 a questo punto ogni muscolo del tuo corpo non deve avere contrazioni, e a questo punto voglio che tu dormi e chiudi gli occhi, rimani con noi e senti tutto il suono che intorno a te avviene, tenendo chiuse gli occhi, lascia che ogni muscolo si decontracca, e a questo punto voglio che tu rimanga in piedi da sola, rilassata, e pensi solamente al suono della mia voce, e al fatto che tra un attimo, altre, ogni muscolo del tuo corpo sarà completamente rilassato, uno, e senti già capo, senti già mani, braccia, spalle rilassate, due, il tuo respiro diventa sempre più lento, è una sensazione piacevolissima, e al tre, tu ti siderai, tre, e ti lascia andare, ti lascia andare, e rimani così, rimani così, sei bravissima, senti solo il suono della mia voce intorno a te, quando vuoi, quando ti senti pronta, tu tornerai in posizione seduta, quando vuoi, tornerai seduta, in maniera da poter vedere la cosa bellissima che hai davanti a te, perché stai per vedere, stai per vedere, ciò che c'è di fronte a te, hai il tuo pubblico, hai gli occhi chiusi e lo puoi vedere, lo puoi sentire, vedi i loro spazi, vedi la loro attesa, e aspettano che tu faccia una cosa ben precisa, regali a loro la tua musica, Rossana, davanti a te c'è un pianoforte, adocchi chiusi e lo puoi vedere benissimo, quando vuoi alzerai la mano destra, e suonerai una nota, quando vuoi la suonerai, ascolta questa nota, e adesso con la mano sinistra fai la stessa identica cosa, solleva la mano sinistra, e suona una nota, quella che vuoi, Rossana sei pronta, tu hai davanti a te il tuo pubblico, che ti chiede di suonare quello che vorrai, racconta loro quello che... Tu sei suono, sei musica rossana, sei quello che stai suonando, Bravissima, lascia tendare, sei musica... Gravissima, bravissima... Estai raccontando quello che c'è dentro, e il tuo pubblico ti guarda... E soglia con te, questa musica bellissima, che ti ha pianino, si allontana, e diventa sempre più dolce, e si ferma... Ora tu rimani ancora con gli occhi chiusi, e aspetta che il suono finisca... Metti le mani sulle gambe, e ridassati, perché hai fatto un grandissimo lavoro, ci hai regalato musica... Ma devi tornare tra noi e prenderti il tuo applauso... Al tre ti svegliarai... Uno... Due... Rosanna svegliati, apri gli occhi! Applausi! 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 Io penso che un'esperienza così debba rimanere come una sorta di piccolo... come dire, iter emozionale, come un piccolo trip onirico... E quello che tu hai fatto questa sera, che spero rimanga dentro di te... Spero ti obblighi ogni giorno della tua vita ad ascoltare un po' di musica... Possibilmente pianistica... Qualche minuto al giorno... Un altro applauso per Rosanna! Grazie infinite! Applausi! 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 Applausi!